Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di cronaca di Canale 10. Apriamo con un ennesimo caso di stalking in Toscana. Da tempo minacciava il suo ex compagno con telefonate ed sms arrivando a danneggiare anche la sua auto. Una 45enne di Pistoia è stata arrestata, i particolari da Francesca Venezia. Non accettava la fine della loro relazione, così una 45enne pistoiese da ieri agli arresti domiciliari per stalking ha iniziato a molestare il commerciante che l'aveva lasciata. La vicenda ha avuto inizio a luglio, quando l'uomo ha presentato una denuncia alla questura. Da questa è scaturito un provvedimento di divieto di avvicinamento al commerciante, anche lui pistoiese, e ai luoghi da lui frequentati, divieto che la donna non avrebbe rispettato, facendo così scattare l'arresto. Abbiamo arrestato questa donna di 45 anni, pistoiese, che aveva messo in atto questi atti perseguitori in confronti di un uomo, dal quale era stata lasciata, la relazione era terminata, ma la donna non aveva accettato la situazione. Quindi con minacce, sms, poi ho incominciato a provocare danneggiamenti all'auto del suo ex convivente. E prima è stata ammonita, perché, come voi ben sapete, c'è l'ammonimento del questore che deve cercare di indurre l'autore di questo reato a cessare. Invece la donna ha continuato, fino a quando, poi, a seguito di un'informativa della squadra mobile, ben dettagliata dall'autorità giudiziaria, il magistrato ha deciso per l'arresto della donna che è stata messa agli arresti domiciliari. L'arresto, il primo di una donna a pistoia, conferma il dato nazionale che vede in aumento il numero delle donne molestatrici. Ancora la cronaca coltivava una vera e propria piantagione di marihuana in un bosco nei pressi di Firenze e per questo un aretino è stato arrestato. I carabinieri hanno scoperto alcune piante alte più di due metri, i particolari nel servizio di Fabio Frabetti. Erano alte anche più di due metri ed avrebbero fruttato, una volta essiccate, oltre 100 kg di stupefacente. In tempi di crisi dell'agricoltura tradizionale, un uomo di 39 anni, originario di Reggello, aveva pensato bene di proporre un altro tipo di coltura. Aveva individuato una boscaglia nei pressi di Pian Biscò, nel Valdarno Aretino, dove aveva seminato qua e là 71 piante di marihuana, alcune delle quali raggiungevano altezze esorbitanti. Era stata un'informativa arrivata ai carabinieri di Arezzo a far partire le indagini. I militari della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno individuato la zona e cominciato gli appostamenti, trovando subito l'ingegnoso sistema attraverso il quale il 39enne irrigava in modo automatizzato la piantagione. Dopo numerosi servizi di controllo, l'uomo finalmente viene a dare un'occhiata ai terreni non riconducibili a nessun proprietario e qui trova i carabinieri che lo arrestano in flagranza. Si sospetta che in questa zona del Valdarno esistano altre coltivazioni di marihuana, considerando le favorevoli condizioni climatiche particolarmente adatte alle piante di marihuana. Sicuramente il Valdarno per la nota umidità e per la possibilità di questi terreni di essere difficilmente accessibili per via di queste boscaglie è uno dei luoghi sicuramente preferibili per fare questo tipo di coltivazione. La notizia è raggiunta dalla stazione Carabinieri di Arezzo che sapeva che in zona ci poteva essere qualcosa. I opportuni sopralluoghi ci hanno permesso di verificare che effettivamente le piante erano rigogliose, erano grandi, oltre i due metri l'una, quindi la quantità era parecchia ed era soprattutto ben curata. C'era addirittura un sistema professionale di irrigazione automatica, quindi il soggetto non andava direttamente sul posto. Non solo controlli, ma soprattutto informazione fra i giovani sull'abuso di alcol. Le istituzioni ed associazioni di categoria fiorentine sono unite nella lotta ad un fenomeno ancora da sconfiggere. Rodolfo Di Paolo. Quasi 1500 patenti sospese o revocate nel 2009 per guida in stato di ebrezza in base alle ordinanze della Prefettura di Firenze, 4527 dal 2006, e 10 i locali chiusi a partire dal 2007 per somministrazione di alcolici a minori o a persone in stato di ebrezza o per la violazione della norma sulla somministrazione nei locali. Sono solo alcuni dei dati sul contrasto all'abuso di alcol a Firenze, dove il Comune, insieme a Prefettura, Questura e associazioni di categoria del commercio, hanno promosso la campagna Vivi la vita, bevi con la testa contro l'abuso di alcol. La necessità è di incidere in modo significativo sullo stile di vita, in particolare dei nostri giovani qui a Firenze, perché non tutto discenda dalla repressione, dalle misure di sicurezza, ma si accompagna ad un convincimento, ad una consapevolezza e della necessità di evitare ogni abuso. Il punto è riuscire a sensibilizzare le famiglie, i giovani, sulle conseguenze negative che l'alcol porta, non soltanto dal punto di vista fisico, mentale, ma anche dal punto di vista della sicurezza e dell'incolumità fisica delle persone stesse. Rispetto alle precedenti campagne contro l'alcol, questa mira ad impegnare in modo unitario tutti i soggetti che vi collaborano per ottenere risultati concreti e duraturi. Oltre ai controlli e alle misure repressive, prevede una serie di azioni preventive e di informazione nei luoghi di incontro dei giovani per ridurre il ricorso all'alcol come strumento di socializzazione e di divertimento. Tutte le iniziative saranno accompagnate da una verifica costante attraverso un monitoraggio delle chiamate al 118 per abuso di alcol, dei verbali delle forze dell'ordine e dei dati sui consumi delle bevande forniti dagli operatori del settore. La campagna prevede anche un collegamento con i consolati dei paesi stranieri per informare anche i giovani turisti e gli studenti, spesso protagonisti di spiacevoli episodi legati anche all'abuso di alcol. Tantissimi giovani americani che spesso confondono il divertimento con il superamento di quei limiti non solo di buonsenso ma anche di legalità, di correttezza e che portano le conseguenze che abbiamo visto in questi giorni. Quindi c'è un contatto costante con le istituzioni stranieri, in particolare con il consolato americano. L'abuso di alcol può portare a gravissime sanzioni se si è trovati in stato di ebrezza quando si guida ma basta anche un piccolo tamponamento conferiti per il ritiro immediato della patente. Forse ancora in pochi lo sanno ma queste ed altre sanzioni fanno parte del rinnovato codice della strada in vigore da una decina di giorni. Vediamo. Attenzione al volante. Da dieci giorni a questa parte basta causare un piccolo incidente che provochi danni a persone per vedersi ritirare immediatamente la patente dalle forze dell'ordine. È il monito del comandante della Polizia Municipale di Firenze Massimo Ancilotti che ci ha spiegato alcune delle novità introdotte dalla riforma del codice della strada in vigore dallo scorso 13 agosto. È un istituto che c'era già nel 92 quando entrò in vigore il codice, adesso è stato riproposto quindi nessuna sorpresa se in un caso di incidente statale anche con pochi giorni di lesioni gli organi di polizia intervenuti procedano al ritiro della patente. La riforma prevede un inasprimento delle sanzioni per chi abusa di alcol o sostanze stupefacenti con tolleranza zero per i neopatentati e alcune categorie fra cui gli autisti dei bus. Per questi soggetti ci sarà una sanzione amministrativa anche se il tasso alcolemico misurato sia inferiore allo 0,5. Il comandante della Polizia Municipale poi ha voluto chiarire che contrariamente a quanto era sembrato in un primo momento, gli autovelox installati a Firenze non sarebbero fuori legge per le nuove regole del codice. L'obbligo di apporre segnaletica a un chilometro di distanza dal posizionamento dei misuratori di velocità vale unicamente fuori dal centro abitato e comunque sarà soggetto a una normativa di dettaglia attuativa quindi non ha efficacia all'interno del centro abitato, quindi a Firenze il problema non si pone. Tra le novità, infine, c'è l'obbligo di prestare soccorso agli animali coinvolti negli incidenti stradali. Se il responsabile del sinistro non si ferma per assicurare un tempestivo soccorso rischia una sanzione amministrativa da 389 a 1559 euro. Resta da capire che tipo di soccorso vada garantito, specie considerando che spesso gli animali feriti diventano aggressivi anche con chi vuole solo aiutarli. Gli ultimi dati relativi agli affitti comunali ad Arezzo rivelano che gli stranieri residenti sono in aumento ai particolari. Oltre il 42% dei contributi che il comune di Arezzo eroga a sostegno degli affitti finiranno a cittadini stranieri. È stata infatti pubblicata la graduatoria provvisoria degli assegnatari dei contributi che avevano presentato apposita domanda. Si tratta di quasi 500 famiglie suddivise in due fasce A e B a seconda del livello di reddito certificato dal parametro ISEE. Su 476 contributi assegnati, 203 andranno a beneficio di nuclei non italiani, una fetta che si sta di anno in anno avvicinando alla metà delle somme stanziate per i sostegni agli affitti, raggiungendo il 42,6%. I contributi più alti, quelli rientranti nella fascia A, sono 370. Il 59,8% andranno a cittadini italiani, il 40,2% a quelli stranieri. I contributi della fascia B saranno 106 e qui la differenza è davvero minima. Siamo proprio al 50% pari tra italiani e non italiani. Segno di una migrazione sempre crescente, di enormi difficoltà economiche per famiglie sempre più numerose dove il lavoro scarseggia. La sensazione tra le famiglie retine è che il cittadino straniero nelle graduatorie venga sempre prima dell'italiano. Quindi, se questo fosse vero, ci si aspetterebbe di trovare un alto numero di italiani escluso proprio dalle graduatorie. E invece, scorrendo la lista dei non assegnatari, vediamo che anche qui sono gli stranieri più presenti, 79 su 139 esclusi totali. D'altronde, i contributi vengono assegnati secondo parametri di legge collegati al reddito e all'affitto. E proprio la mancanza del requisito di reddito è la motivazione più frequente che porta alla mancata concessione del contributo. Solo il 22% delle domande non è stata accolta, ma le oltre 600 richieste di contributo, unite a quelle di una casa popolare, riportano a galla l'emergenza casa, con affitti alle stelle, mutui inaccessibili e sempre più persone che rischiano di perdere il loro tetto. Rimane in carcere l'ex direttore del penitenziario di massa, Salvatore Iodice recluso in isolamento a Prato dopo esser stato arrestato il 6 luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pilotati nel carcere da lui stesso diretto. Il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Lagezza, ha respinto la richiesta agli arresti domiciliari fatta dagli avvocati di Iodice, ipotizzando un'incompatibilità fra le condizioni psicofisiche dell'ex direttore e la permanenza in carcere. Ed una speciale cabina di regia contro le problematiche del quartiere di San Lorenzo, a Firenze, come illegalità e degrado, sarà operativa in prefettura dalla prossima settimana. È quanto deciso oggi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito in Palazzo Medici Riccardi. La cabina di regia, si spiega in una nota, deciderà e coordinerà le diverse iniziative da mettere in campo per contrastare con massicce e frequenti verifiche tutte quelle forme di illegalità e di degrado che si verificano nella zona, come l'abusivismo. Ed era questa la nostra ultima notizia. Il telegiornale di Cronaca termina qui. Vi lascio in compagnia di Lorenzo Marucci per le principali notizie sportive. Buon proseguimento di serata.